C'è un ruolo in qualche modo anche di educatore che può essere svolto dagli intermediari finanziari nello spiegare quali sono gli strumenti a disposizione. Diciamo che la fortuna, tra virgolette, di tutto questo è che comunque le famiglie italiane sono consapevoli della necessità di essere supportati nelle proprie scelte. Da quando le famiglie hanno iniziato comunque a ristrutturare i loro portafogli, maggiormente a favore di componenti di risparmio gestito, le reti di consulenti che comunque sono, diciamo, tipicamente più specializzate nell'attività di consulenza le famiglie hanno guadagnato cote di mercato e anche molto in fretta. Chi ci fa un'attività di gestione professionale del risparmio o di consulenza sta dando comunque un servizio e questo servizio in qualche modo viene valorizzato.